Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alle ultime operazioni antidroga che si sono susseguite sul territorio gelese. In quasi tre mesi sono state rinvenute quasi 200 kg di sostanza stupefacente. Circa 200 kg di marioana già pronta per essere messa sul mercato è stata sequestrata dalle forze dell'ordine in soli quattro mesi tra Gela, Mazzarino e Butera. Un mercato, quello dello spaccio di droga particolarmente fiorente che fa gola soprattutto alla criminalità organizzata. E' quanto hanno riferito oggi durante una conferenza stampa gli inquirenti alla presenza del procuratore capo del Tribunale Gelese, Fernando Asaro. Proprio giorni addietro la polizia di Gela, in collaborazione con la squadra mobile di Caltanissetta, ha requisito quasi 70 kg di sostanza stupefacente nelle campagne di Contrada Bulala, dove era stata coltivata e raccolta. Nel corso della stessa operazione gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un agricoltore gelese, Agatino Pasqualino, di 27 anni, con l'accusa di coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La scorsa settimana, durante una analoga operazione nella zona di Spino Santa, la polizia aveva sequestrato altri 40 kg della stessa sostanza essiccata e mille piantine coltivate in una serra vicino al pomodoro cileggino. Furono arrestate tre persone, padre e due figli. Nel corso della conferenza stampa abbiamo sottolineato quella che è la particolare attenzione delle forze di polizia ad un controllo costante del territorio, che ha avuto i suoi frutti grazie anche all'ultimo arresto, che ha portato ad un sequestro di ben 70 kg di sostanza stupefacente. Quindi è stato veramente un ottimo risultato e anche una dimostrazione di quello che è il costante impegno di tutte le forze dell'ordine, in questo caso della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Gela, e del commissariato di Niscemi, sia nelle forme preventive che nelle forme poi di repressione nella lotta al crimine. Voglio evidenziare la perfetta sinergia che tre uffici di polizia hanno seguito in questo ottimo risultato sotto la supervisione della procura di Gela, nella speranza di riuscire a sviluppare i riscontri ottenuti per cercare di individuare l'esatta piazza di spaccio che sicuramente questa droga avrebbe occupato per tanto tempo e poi rimessa nel mercato avrebbe fruttato notevole cifre illecite per i soggetti destinatari dell'attività criminale. Auto in fiamme la scorsa notte in via Talca Scavone, a Gela, il fuoco ha interessato una Fiat Grande Punto di un'operaia di 45 anni, sull'episodio indaga la polizia. Il maltempo della scorsa notte che si è battuto su Gela con pioggia e grandine ha provocato danni consistenti in alcune zone della città. In via L'Indipendenza, all'incrocio con la via Europa, il New Jersey è stato completamente spazzato via dalla pioggia, bloccata la bretella Borsellino per la presenza di detriti sul manto stadale Fango, anche sulla stadale Gela Vittoria. Allagamenti si sono registrati in via Venezia, a Cantina Sociale e a Setteferine. In via Francesco Crispi, lo vediamo dalle foto, l'acqua è invaso un minimarket completamente allagato. Sulla stessa strada sono saltati numerosi tombini e non è la prima volta che accade tra le proteste dei residenti. Un fulmine ha colpito una terrazza della zona Giardinelli, mandando in tilt tv ed elettrodomestici. E adesso parliamo della visita oggi a Gela del sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Davide Faraone in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico nella scuola Enrico Mattei. C'era il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca Davide Faraone questa mattina nei locali della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di via Butera a Gela in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2016-2017. Il rappresentante del governo Renzi è stato colto dal dirigente scolastico Agata Quelli. I migliori provvedimenti vengono fuori se si gira tanto, si ascolta e si vede com'è la scuola nella realtà. Per cui lo sto facendo, sto girando e Gela è una tappa importante in questa direzione, quindi mi fa piacere questo. Dopodiché naturalmente abbiamo le carte in regola per raccontare una riforma importante, un investimento molto forte sull'istruzione che è in controtendenza con tutto ciò che è accaduto negli anni passati in cui si è tagliato sulla scuola. Noi abbiamo grandissima fiducia negli insegnanti, nel personale amministrativo, nei dirigenti e quindi sappiamo di avere una classe dirigente della scuola all'altezza e competitiva rispetto a tutto il mondo. Dopodiché naturalmente bisogna investire sempre di più, cosa che abbiamo fatto, perché per tanti anni la scuola è stata lasciata sola dalle istituzioni. Faccio riferimento ad esempio agli edifici scolastici, noi abbiamo ereditato un patrimonio di edifici che era veramente problematico, abbiamo investito 7 miliardi e 4 su questo settore proprio perché sapevamo che eravamo tanti indietro e quindi è stato uno degli investimenti più grandi e in più stiamo investendo sulla didattica e sugli interventi, ad esempio l'alternanza scuola-lavoro abbiamo presentato qualche giorno fa dei dati importantissimi, quasi 700 mila ragazzi andranno in alternanza a scuola, io credo che siano finalmente strumenti per rilanciare la scuola. Tutto lo 0-1 che è quello che è l'impegno per legge che deve mettere a disposizione l'ASP per i ragazzi e le ragazze autistiche è stato effettivamente investito per intero. Naturalmente l'ospicio è che si possa andare anche oltre lo 0-1 se ce n'è bisogno e siccome in questo territorio ce n'è bisogno io credo che bisogna fare uno sforzo ulteriore per mettere in campo altre azioni, altre misure per i ragazzi autistici per cui credo che l'impegno ci sia, si tratta tra l'altro in legge di stabilità nazionale metteremo risorse sia sulla non autosufficienza che sulla legge sull'autismo per cui non ci sono più scuse. Come ogni anno il dirigente scolastico Agata Quelli in occasione dell'apertura del nuovo anno ha proposto un tema che sarà sviluppato durante l'anno nelle singole discipline e nelle attività curriculari. Serrano scorso si era puntato sulla diversità e sull'inclusione attraverso un percorso intitolato identità e integrazione, questo nuovo anno partendo dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola delle infanze e del primo ciclo di istruzione del 2012 l'attenzione sarà posta su un percorso dal titolo Costruiamo un nuovo umanesimo. Prosegue fino a domenica 23 ottobre alla Villa Comunale Garibaldi di Gela la festa dell'unità promossa dal Partito Democratico oggi alle 17.30 moderato dalla giornalista Fabiola Polara si darà un incontro sul tema della scuola in Sicilia alle 18.45 introdotto dal segretario cittadino del PD Pepe Di Cristina si darà l'incontro sulla riforma costituzionale un'occasione per cambiare il paese intorno alle 20.30 tavola rotonda su il riformismo le sfide di oggi e le prospettive di domani ricordiamo inoltre che alle 21.30 è prevista anche una esibizione musicale con il gruppo De Onei il Movimento 5 Stelle in tour nelle strade e nelle piazze della Sicilia per informare sul referendum per dire no ad una riforma costituzionale che danneggia i cittadini oggi alle 19.00 in piazza Martiri della Libertà a Gela i portavoce del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana e al Comune di Gela incontreranno i cittadini per spiegare le ragioni del referendum per esprimere il proprio no, dicono i pentastellati ad una riforma fatta per favorire i poteri dei partiti ed escludere i cittadini dalle decisioni il 20 luglio scorso l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato i decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela Niscemi e Piazza Merina alla città metropolitana di Catania ciò significa che la regione non ha approvato i nuovi confini dell'ente intermedio catanese nel quale dovevano rientrare queste tre città e così per un capriccio del nostro Parlamento regionale Gela è rimasta annessa al Consorzio Nizeno il Comitato Gelensis Populus dal giorno della bocciatura aveva ricevuto rassicurazioni dal sindaco Domenico Messinese che entro il termine di 60 giorni sarebbe intervenuto presentando un apposito ricorso al TAR per sollecitare il primo cittadino i componenti del Comitato avevano avviato sui social e non solo il ricorso countdown conteggio oramai giunto miseramente al suo termine a seguito di questa iniziativa il sindaco e la soggiunta dice il portavoce Riliana Bellardita sono corsi ai ripari annunciando tramite un soggetto non istituzionale di avere provveduto ad incaricare l'avvocato Gaetano Armao per presentare un ricorso ricorso che si presume debba avere come oggetto l'impugnazione dell'indizione delle elezioni per la città metropolitana di Catania nel tentativo di bloccare le elezioni metropolitane del nuovo ente etneo Gelensis Populus sottolinea che il sindaco di Catania Enzo Bianco è colui il quale ha appena annunciato trionfalisticamente il pronto ingresso delle tre città del gelese dentro il nuovo ente territoriale etneo ed è lo stesso che veniva diffidato dai soliti soggetti ufficiali ma non istituzionali a non indire le elezioni di secondo livello e che invece cinicamente indetto le elezioni della città metropolitana di Catania per il prossimo 20 novembre Alla luce di tutto ciò continua il comitato a partire da oggi rimanendo un mese per poter tentare di bloccare le elezioni già stabilite faremo ripartire un nuovo countdown l'election day countdown il ricorso a questo punto da presentare contro Bianco compagno di foto e risate che è colui che ha indetto le elezioni nel rispetto della legge 15 del 2015 deve superare lo scoglio dell'ammissibilità considerato continua una nota che Domenico Messinese sembra non volere più ascoltare i cittadini e tra essi anche noi cittadini di Gelensis chiudendo qualunque canale di interlocuzione da noi tentato o sino all'ultimo per provare a risolvere questa ingarbugliatissima vicenda dei liberi consorsi ci sembra opportuno metterci nella posizione di spettatori per guardare l'operato improvvisato dal sindaco e dal suo assessore Francesco Salinito unitamente ai loro alti consigliori augurandoci che non compiano passi falsi a danno dei cittadini e contribuenti gelesi noi di Gelensis chiude la nota continueremo a vigilare sulla vicenda informando la città e denunciando le cose poco chiare e trasparenti operando autonomamente e gratuitamente per gli interessi del nostro territorio come sempre fatto la sua vita e il suo lavoro la sua missione alla servizio dei poveri il missionario padre Valtare Corsini parlerà di tutto questo ai fedeli della parrocchia Sant'Antonio di Gela domenica 23 ottobre alle 19 in occasione della giornata mondiale della missione al fianco di Don Michele Mattina il missionario racconterà il percorso intrapreso e i cambiamenti attuati ma anche le tante cose da fare nei luoghi poveri della terra sono più di 150 i missionari servitri dei poveri del terzo mondo in rappresentanza di 18 nazionalità che servono giornalmente oltre 1500 bambini grazie alla realizzazione di scuole mense, dispensari medici e officine professionali fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi venerdì tra le 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia, segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici l'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5 anche nei giorni di domenica martedì e giovedì un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto siamo ritornati seconda parte del telegiornale è stata annullata la manifestazione di protesta promossa dal patronato Acri di Gela prevista per domani in merito al degrado in cui versa il cimitero farello il sindaco Domenico Mersinese si legge in una nota della stessa Acri ha assunto un impegno preciso al fine di ripulire la zona e di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie all'interno dello stesso cimitero focus territoriale dell'agenda urbana incontro ieri al comune di Gela del dirigente del divertimento alla programmazione della regione siciliana Patrizia Picciotto come autorità di gestione con i vari componenti del suo ufficio tra le 18 macro municipalità coinvolte in Sicilia Gela si è aggregata al comune di Vittoria rappresentando di fatto il quinto polo urbano dell'isola ieri era presente anche il sindaco vittoriese Giovanni Moscato sono state avviate i primi passi per la costruzione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile da intraprendere per utilizzare al meglio sui vari assi le cospicue risorse comunitarie del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 ci consentirà sui vari assi di poter dare delle risposte al territorio oggi è un incontro estremamente profitto dove di fatto si è avuto un buon pronto con la regione siciliana per poter svolgere tutte le attività propedeutiche nel modo più corretto possibile per poter consentire poi di accedere a quei fondi che consentiranno di sviluppare progetti reali per il territorio l'agenda urbana serve proprio per creare quel tessuto urbano che negli anni non è stato mai attenzionato una città non è fatta solo di case ma è fatta di tutti quegli accessori a contorno che la fanno diventare un luogo vivibile anche e soprattutto fuori casa e con l'agenda urbana questo si può ottenere abbiamo presentato insieme anche il Gallo quindi c'è una collaborazione importante data anche dall'omogeneità dei nostri territori quindi speriamo in questi anni realmente di poter ottenere questi finanziamenti con questi fondi comunitari che per i comuni ormai sono fondamentali considerato anche ormai i trasferimenti sempre più esibili che arrivano dalla regione e da Roma questa è l'opportunità di mettere assieme un polo di città Gela e Vittoria per costruire politiche legate ai servizi alle persone servizi alle imprese ma per far diventare queste città che si confrontano con i nuovi scenari dell'economia e dell'inclusione sociale ma siamo in una fase in cui stiamo costruendo la strategia in questo confronto col Dipartimento regionale in quanto autorità appunto di gestione è un processo di scambio di informazioni di coprogettazione appunto della strategia da qui a fine novembre presenteremo al Dipartimento regionale la prima stesura diciamo della strategia urbana sostenibile che farà una serie di scelte diciamo di campo di azioni tematiche da mettere appunto in campo dopo questa fase di coprogettazione i comuni di Gela e Vittoria presenteranno al Dipartimento regionale alla programmazione la prima stesura della strategia urbana sostenibile l'agenda urbana è un rilevante vettore per progetti di sviluppo urbano che aumentino l'attrattività delle città per investimenti produttivi culturali sociali ed economici consentendo di attuare una progettualità nuova e sostenibile entro le azioni previste dalle linee di finanziamento comunitario ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni possono regarsi all'ospedale di Gela il martedì giovedì e venerdì dalle 15 e 30 alle 17 e 30 per sottoporsi alla mammografia gratuita torna l'influenza è il momento di fare il vaccino non farti influenzare proteggi la tua salute e la salute degli altri vaccinati questo l'invito che l'ASP di Caltanissetta rivolge alla cittadinanza in particolare agli over 65 i soggetti a rischio e le donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza e chi svolge un'attività di valenza sociale il nuovo virus influenzale quest'anno minaccia di mettere a letto in tempi brevi 6 milioni di italiani a far prevedere un'ondata influenzale più pesante del solito sono due fattori il primo è il largo anticipo con il quale già a fine agosto è stato isolato il virus il secondo è che i ceppi isolati contengono piccole mutazioni che predispongono a una maggiore circolazione dell'influenza il vaccino rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenirla e ridurre le complicanze abbiamo pensato alla vaccinazione anti-influenzale che oltre a ridurre i casi di malattia evita i casi gravi di influenza perché specialmente quest'anno gli esperti dell'istituto superiore di sanità prevedono una influenza più aggressiva in quanto c'è stata una mutazione virale per cui raccomandiamo a tutta la popolazione e alla popolazione a rischio in particolare di sottoporsi alla vaccinazione quest'anno la vaccinazione come gli anni precedenti sarà somministrata da parte dei medici di medicina generale che hanno aderito tutti poi i pediatri che vogliono somministrarla la possono somministrare pure una particolare attenzione e raccomandazione rivolgiamo al personale dei servizi pubblici essenziali in quanto la malattia può provocare centinaia di casi di costrizione a letto e quindi non verrebbero assicurati i servizi pubblici essenziali un caloroso invito rivolgo ai miei colleghi sia ai medici sia al personale sanitario che si vaccinino sia per evitare di ammalarsi e quindi ridurre le prestazioni all'utenza sia per evitare che contaggino i malati l'organizzazione per la campagna vaccinale antivluenzale antipiniamococica 2016-2017 prevede la somministrazione del vaccino presso gli ambulatori di tutti i medici di medicina in generale che hanno aderito alla campagna a Caltanissetta nel nostro comune solo un medico non ha aderito tutti questi pazienti possono venire da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso l'ambulatorio di via Cusmano ci saranno anche 9 atleti della soluzione sportiva di lettantistica giallo sport ai campionati italiani di atletica leggera per disabili organizzati dalla FISPES che si svolgeranno a Narni in Umbria da oggi a domenica a questi campionati parteciperanno in totale circa 150 atleti provenienti da tutta Italia i campionati di società designeranno le squadre che si contenderanno il primo secondo e terzo posto gli atleti gelesi allenati dal tecnico Leone Zappulla che parteciperanno alla competizione sportiva sono Rocco Addario atleta e presidente Nunzio Susino Concetta Maganunco Maria Nicastro Maria Luisa Carnevale Giussi Nicoletti Silvana Moca Concetta Margì e Grazia Sarchiello la partecipazione della Gela Sport ai campionati italiani per disabili che si svolgono appunto in Italia ha detto il presidente Rocco Addario sono un miracolo considerato che a Gela non esiste un campo di atletica e c'è anche una carenza di fondi la Gela Sport anche in questa occasione si è autotassata la pagina dello spettacolo appuntamento col cinema l'antidoto di Gela vi ricordiamo è in proiezione il film Go With Me sono due gli orari 19.30 e 21.30 abbiamo chiuso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti